Bene amici miei, oggi abbiamo con noi la tenda MT100, me l'avete chiesta in tanti su YouTube ed anche qua. La prima cosa che vi mostro amici miei è quanto questa tenda sia alta, la verticalità è data dall'ingresso frontale invece che laterale. Questo si favorisce la dispersione della pioggia avendo queste pareti veramente spiovente, ma in caso di forte vento come potete vedere la tenda tenderà a piegarsi. Entrando nella tenda troviamo un abside dove riporre due zaini da 50 litri all'interno della capsula, c'è solamente due tasche, sulla parte alta. La possibilità di mettere qua gli zaini non mi piace perché in caso di pioggia quando esco devo aprire la porta, far uscire gli zaini, uscire io, poi riporre gli zaini, insomma tutto macchinoso e non mi piace. Sicuramente per 100 euro una buona tenda, pesa 2,6 kg, l'ingombra in litraggio è di 10 litri. A te piace? Fammelo sapere sotto nei commenti.